Ma io vedo che all'inizio ci fu una grande apertura nei confronti degli amministratori quando Renzi divenne presente del Consiglio, perché lui presentandosi da ex sindaco fece una serie apertura. Quello che so è che finora, tanto nel disegno di legge di riforma costituzionale, tanto nelle azioni ordinarie del governo, credo che questo esecutivo si starà caratterizzando per essere uno dei più duri e più pesanti contro i sindaci e gli amministratori locali. Quindi io sono molto critico con questa riforma costituzionale che secondo me non aumenta il tasso di democrazia e di rappresentatività. Cosa cambierebbe questa riforma del Senato? Io credo che nella riforma del Senato devono essere rappresentate le comunità, e quindi ci debba essere un tasso di democrazia rappresentativa che entra in Parlamento molto più forte rispetto a quella prevista adesso. E poi c'è il meccanismo elettorale che fa anche la differenza nell'aumento del tasso di democraticità di una comunità.